La picchiata selvaggiamente procurandole lesioni al collo e al volto ed addirittura rompendole qualche dente, un violento episodio che si è consumato all'interno delle mura domestiche. È successo a Subbiano dove i carabinieri hanno denunciato un 47enne che al culmine di una lite ha colpito ripetutamente la compagna di 44 anni massacrandola di botte. Le indagini sono state avviate a seguito del ricovero della donna al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo dove i sanitari le hanno riscontrato lesioni al collo e al volto. I colpi dell'uomo inoltre le hanno anche procurato la lussazione di alcuni denti. I militari hanno così ricostruito che durante l'ennesimo litigio per futili motivi 3-2 l'uomo aveva cacciato la 44enne di casa. Il tentativo poi della vittima di rientrare aveva scatenato la violenza dell'uomo che sulla porta di casa l'aveva colpita più volte. Il 47enne adesso dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.